Ciao ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo 2018 e noi di Passport abbiamo pensato di redigere una classifica delle 6 top scarpe da corsa e da fuoristrada. Questa è una classifica a livello prettamente personale che abbiamo stilato grazie ai vostri feedback, grazie a quanto una scarpa vi è piaciuta indossandola in negozio e utilizzandola fuori e quanto una scarpa anche è famosa e conosciuta sul mercato. E veniamo amici ora a fare quella che è la classifica delle 6 top scarpe da trail da donna. Iniziamo con il sesto posto dove troviamo Salomon Ultra Pro, una calzatura leggera, ammortizzata, ottima per le medie e lunghe distanze. Al quinto posto troviamo la inossidabile, la sportiva Ultra Raptor, una calzatura che dove la metti lei sta e ti porta senza problemi. Sono tanti anni che è sul mercato ma dà sempre tante soddisfazioni. Al quarto posto troviamo la Scott, una New Entry, la Super Truck Ultra RC, una calzatura che ci è arrivata da poco in negozio ma che è stata molto molto apprezzata per il grip, per la calzata e per la tomaia in Scheller DVR. Andiamo al podio dove troviamo al terzo posto la New Balance Yerro, una calzatura apprezzata per la calzata, per l'amortizzamento e per il fitting, preciso e con laghetta che evita che entrino i sassi quando si corre in mezzo ai ghiaioni. Al secondo posto troviamo Hoka Speedgoat 2, una delle scarpe più usate per le medie e lunghe distanze, apprezzata per il fondo Vibram, per la calzata precisa sul piede ma allo stesso tempo molto comoda e che dà veramente tanta ma tanta ammortizzazione. E al primo posto troviamo Mafate Speedgoat 2, sempre in questo caso da donna. Questa è la calzatura più indicata per le Ultra Trail, una scarpa da farsi con tranquillità i 100 e passa chilometri, ti dà un'ottima stabilità, un'ottima calzata, un ottimo grip grazie al fondo Vibram, insomma che dire, è una calzatura di cui sentiremo parlare in tutte le gare da trail che ci aspettano in tutto il 2019. E proseguiamo la classifica parlando ora delle 6 top scarpe da trail per quanto riguarda l'uomo. Al sesto posto troviamo la sportiva, la Ultra Raptor, anche in questo caso una calzatura molto apprezzata. Nell'uomo è piaciuta anche perché si può utilizzare come scarpa da trekking leggero per fare passeggiate in montagna e quindi non solo per il trail running. Al quinto posto troviamo, signore e signori, Brooks Cascadia 13, una scarpa che fin dalle sue origini, quindi dalla prima versione, ci ha dato tante soddisfazioni. La 13 rispetto alle precedenti è stata ulteriormente migliorata per calzata e anche per stabilità e un po' anche per il grip. Al quarto posto troviamo New Balance Yerro V3. In questo caso una calzatura che ha avuto dei feedback fluttuanti, diciamo, perché è stata apprezzata per i misti collinari, magari per l'alta montagna forse una scarpa più indicata, ma tendenzialmente voi amici runner l'avete consigliata, l'avete provata e l'avete utilizzata con molto piacere. Andiamo ora sul podio dove troviamo al terzo posto una Oca, la Mafate Speed, una calzatura dedicata alle ultra trail, ottima per l'ammortizzamento, per il grip. Sicuramente una delle scarpe più apprezzate per le gare di endurance e di lunga durata. Al secondo posto troviamo, eccoci qua, un'altra la sportiva, la Akasha, una calzatura che ci ha dato ottime soddisfazioni, sempre in crescendo, perché tanti podisti hanno iniziato ad utilizzarla, un po' sui feedback e quindi sul passaparola, ma la cosa importante è che chi l'ha utilizzata una volta ha piacere di riprovarla e per questo si merita il secondo posto. Andiamo infine al numero uno dove, amici, troviamo niente po' po' di meno che Oca Speedgoat 2. Forse la calzatura più utilizzata per le gare di media e lunga distanza nel trail. Una scarpa facile, leggera e ammortizzata. Come per la donna, devo ripetermi, uno dei suoi vantaggi è anche il grip, una calzatura che ci ha dato grandi soddisfazioni, ma soprattutto, amici, siete voi che avete avuto grandi soddisfazioni a utilizzarla. Bene, la mettiamo qua in bella mostra. Ok, con questo è tutto, la classifica è finita, vi aspettiamo nei nostri negozi per avere ulteriori feedback da condividere e ne approfitto per farvi i nostri migliori auguri di Buon 2019. Ciao!